scatta il verde, 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 vediamo tra... Ramaclubo a star parte, rimane piantato, Poglio, Manec, Degnier, 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 non so se sia fatta fuori, perché staremo pronto a spagare, avendo le vinte, due, che abbia deciso di... ma si muove. Mi sa che sta per essere esposto una bandiera nera e bianca con l'avvertimento e il numero del pilota su qualcuno, non sappiamo per cosa, ma ho visto che stavano discutendo, quindi andiamo a vedere il primo passaggio, con il 104, si impiazza io. Andiamo a capire di chi sono i numeri, adesso lo chiediamo. Pronti quindi, vediamo, è esposto il numero, adesso cercheremo di vederlo anche noi, perché di qua non lo si può leggere, con chi fa ancora la Manec. la hozza palasta, il seme caronelli, questo inghioppo in pista. Che numero era, ragazzi, per finire? Allora l'avvertimento era per Kulikovskis, il numero 135, quindi con maniera di avvertimento per penalità. Minus guadagnetti signorio, bravo, bravo! E' vero fra Bachelet! Quindi un'attura di avvertimento per un'inflazione che noi non abbiamo visto, probabilmente, a partenza. e il pilota ha perdito il fuori cospis con il numero 135 se sono rese là per qualcosa verrebbe pulito a fine della hit nel frattempo si va ad entrare con l'ultimo giro siamo alla trascetta degli euro ma che ne serve? non è ancora fatta completamente perché Van Eyck è sino ma anche la trascetta ma nello stesso tempo la vigna se la gioca e mi dicevo ma anche la scacchi che quindi è pronta con Van Eyck che la chiude davanti a Tenier e in seconda in terza quindi con un cento il fotografo un po' ma riesco a vedere se mi fa così e allora Nicodem Stauber e Andrei in terza Il terzo posto va a Tomashtrao! E' già in quinta posizione, sta sfiammando e sta cercando di portarsi ancora avanti. E' già in quinta da vedere una macchina prospettiva. E' già in quinta posizione, pure racing action on the track with better than the European champion in front of other Maxim and Tomaschul. E' già in quinta posizione, pure racing action on the track with better than the European champion. E' già in quinta posizione, e' già in quinta posizione, e' già in quinta posizione. E' già in quinta posizione, e' già in quinta posizione. D'annuale peccato! non riesce ad accacciare prima di passare è arrivato fino lì poi si va a fermare e va all'inizio di questo ultimo fantastico fight the last quarter have a look at the jump the jump will be crazy Tomasciano di inside of all time merci fantastic have a look at the jump quindi il nuovo match davanti per Oid va a grande e va a chiudere con Pione Ponella Pione Europeo Campotale il contente poi l'arrivo in volata tra Andreje che riesce a vedere la mia sostanza sono ci sono su andiamo a vedere la prima staccata se ce la fa immediatamente merci a mantenere la prima o se ce la fa schoer andiamo a vedere si ammazzano ma non è forte nel san merci che riattacca prima della curva 3 adesso tiene giù il piede il numero 108 in prima posizione ci riesce per il momento ma staccata non è giù il piede ma staccata la mia sostanza il fleete ma staccata il piatto è giù il piede non è giù il piede ma staccata la mia staccata è giù il piede Già da ieri l'abbiamo visto, ha una grandissima, poi Sascha Wongarder e Claudio Pigatto. Passage Schreier sotto la pressione del franzo. Passage Merci è inciope da quanto più avate, èsinguiti i tutti servizi, ha di ritmo. Passage Schreier sotto la pressione del franzo. Passage Merci sotto la pressione. Il franzo incierto la salita, ma il Verti Mellett si solo è inciverts il franzo. Sacro inciente. Passage Schreier, Passage Merci e Tim oldade. il capolavoro Mercier è lì che sta continuando a bruciare su Schnell che però è stato avanti con i primi tre suoi Schnell e sta Mercier che è lì che sta per andare all'interno non lo sento più da con la Schnell e poi tipo qua il è stato di fronte a domenso di fight fighting against Marcel Schroer il ha bisogno di voi il ha bisogno di voi va s'emmerciare per andare a diborre Marcel Schroer potere qui si può ripicare a l'interio va s'emmerciare il ha bisogno di voi l'attacco di Vincent Mercier è lì attaccatissimo non vede l'ora e sta cercando di fruttare l'attacco di Mercier con la scena di San Gersie con la sensazione di tutti ieri con la passaggio e il diritto e il diritto il del commerciare si parliate attenzione nooo tutti e tre tutti e tre Giulia che si trovava incredibile E' un finale allucinante all'inizio dell'ultimo giro, con il cento e il cento e il cento. E' un finale allucinante all'inizio dell'ultimo giro. Fantastico finale, andiamo a vedere l'attacco di Naubach su Sasha Bungerner, potrebbe farcela, non ci riesce ancora. La scuola in terza posizione, Claudio Piggato è quarto, nessuno tra loro è in attenza. Sasha Bungerner e Claudio Piggato pensava di essere lì ma ci sono, la bandiera a specchi, Bungerner con il longback.